In collaborazione con Val di Fiemme, Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Ponte di Legno Tonale, Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valle Endena, Alpe Cimbra Folgaria Lavarone, Vicina da Non Crederci, Funivie Folgarida e Marilleva. Schirama Dolomiti Adamello Brenta, un consorzio sciistico che raduna otto eccellenze turistiche. Della nostra Italia, otto località del Trentino Occidentale che si sono radunate per poter usufruire dai propri impianti scisi, ben 380 km di piste sciabili con un unico skip. Le otto località sono, partendo da est verso ovest, Alpe Cimbra, La Paganella, Il Bondone, Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgaria e Marilleva, Peio e il Passo del Tonale. Siamo con Angelo Dalpez, che è il vicepresidente delle Funivie di Peio, insomma anche voi di Peio con le vostre caratteristiche e peculiarità aderite a questo consorzio. Perché ci siete? Soprattutto siete stati bravi perché sono otto località che ognuna ha una peculiarità, una diversa dall'altra ma insieme complementari. Indubbiamente, come dicevi, ecco le peculiarità che fanno grande anche le piccole stazioni, sia noi che poi inseriti così in una schiarea molto importante. Certo non c'è il collegamento sistico, ma ci sono impianti che portano a 3.000 metri e c'è tutto un collegamento anche così con le varie stazioni. E quindi i nostri impianti che sono un po' all'avanguardia fanno qualcosa anche di una piccola stazione, come dico, una chicca inserita nella grande area. Ognuna ha una propria specificità, voi se avete la Val di Sole con vicino Fogane Marileva, col passo del Tonale, uno chiaramente può scelere un giorno da una parte, uno dall'altra. Non sono collegate ma c'è della mobilità ambientale a chilometro zero, quindi tutto senza inquinamenti, quindi uno si può spostare facilmente e soprattutto chi fa la settimana bianca ha dei vantaggi non indifferenti. Italiani ma soprattutto i tanti esteri che vengono da voi in Val di Sole. Indubbiamente anche quest'anno abbiamo toccato il record di presenze, naturalmente gli esteri fanno la sua parte per quanto riguarda l'invernale. Poi come dicevi giustamente ci sono i bus navetta, c'è il collegamento, però le nostre peculiarità essendo appunto nel Parco Nazionale dello Stelvio noi cerchiamo di salvaguardarle anche d'inverno. Quindi pensiamo di essere non a torto inseriti in questa area, anche perché poi adesso si sta ragionando per fare una società unica, quindi con Campiglio, Folgari da Marileva, Peio e poi le altre località della parte occidentale. 380 km con un unico ski pass, a dei prezzi convenienti, con speciali offerte e sicuramente una carta vincente per il panorama turistico nazionale e internazionale. Indubbiamente ne fanno da padrone, anche poi lo vediamo. Non faccio la pubblicità anche come presidente della Fisi, lanciando un po' anche la 3-3, però anche noi stiamo attuando così delle iniziative. Quest'anno avremo anche i campionati italiani e la protezione civile a Peio e quindi così da tutta Italia potranno vedere anche le nostre bellezze. Siamo nella bellissima Val di Sole, siamo a Folgari, da cuore della schiaria Campiglio-Dolomiti di Brenta. 150 km di pista è fra la Val di Sole e la Val Rendina, passando per Pinzolo e Madonna di Campiglio. Nuovi impianti, una grande estate, la nuova Malghete, una seggiovia che porta ben 2.200 persone, una quadriposto funzionale che accelera il tanto traffico scistico di questo territorio. Nuovi impianti, Cristian, parliamo anche dell'innevamento e parliamo anche delle piste. Siete veramente una delle schiare più belle delle nostre Alpi, 150 km è il taglio che vuole il turista italiano, ma anche soprattutto quello straniero, ma avete curato oltre agli impianti anche le piste e l'innevamento. Sì certo, è importante che il cliente quando viene trova un manto nevoso perfetto, chilometri di piste disponibili e quindi il nostro forte è quello di avere Folgari da Marileva, Madonna di Campiglio e Pinzolo tutte collegate con investimenti da tutte le società anche sull'innevamento, perché in queste ultime stagioni mancava la neve dal cielo e allora non è che il turismo si ferma, anzi noi l'anno scorso avevamo chiuso con una stagione record grazie agli investimenti, anche quest'anno abbiamo potenziato i nostri bacini idrici con una nuova vasca di acqua, nuovi cannoni, una nuova sala macchine per realizzare tutto il sistema di innevamento anche verso Folgarida e quindi siamo in grado anche di sopperire alla mancanza di neve naturale. La neve naturale che si dice che arriverà tante copiose dopo un'estate veramente arida, una stagione che avete chiuso lo scorso inverno con dati record, ma anche l'estate, nuovo bike park e nuovi impianti aperti e nuovi numeri importanti anche per l'estate. Sì l'estate è andata molto bene, avevamo anche i mondiali di bike, quindi siamo soddisfatti dell'estate. Chiaro che adesso ci concentriamo su questa nostra stagione principe, con la neve siamo a posto, con gli impianti siamo a posto e oltre a piste e impianti noi vogliamo anche concentrarci sull'emozione del cliente. Ricordo che a Folgarida Malgettout abbiamo realizzato una nostra apreschi, che quindi alla sera alle 4 di pomeriggio quando i clienti rientrano in quota possono apprezzare questo momento di leppi l'hour pomeridiano, ma non solo a Folgarida, perché nella nostra zona c'è una apreschia anche a Malileva 900 e da quest'anno ce ne sarà anche una a Daolasa Valle. Quindi stiamo cercando di investire anche sul divertimento, che si aggiunge poi a tutto ciò che avevamo fatto negli anni precedenti per il family. Con i nostri family park sia a Folgarida, sia a Daolasa Molte e sia a Malileva, perché c'è sempre il vecchio concetto che quando stanno bene i bambini sta bene anche mamma e papà. Un concetto che non tramonta mai, diciamo. No, non tramonta mai e noi dobbiamo lavorare perché questi bambini aumentino sempre, perché sono loro il nostro futuro. Maggiore informazione sul sito, dottor Gasperi? www.ski.it Ah, non male anche come log. Diciamo che è un fattore vincente di questa società. Nel nostro girare per le località alpine più importanti della nostra Italia abbiamo incontrato Marco Di Marco, che è il direttore editoriale di Shire Magazine, la rivista più importante per gli amanti della neve e degli sport invernali. Marco, come sarà il 2018, le Olimpiadi, una Pasqua molto lunga, si pronunciano quattro mesi di intensa attività invernale? Sicuramente sarà un inverno stracolmo di neve, prima cosa, perché ci sono delle previsioni ottime, anche se forse non bisogna fidarsi. Comunque, pare arrivi tanta neve finalmente. Sì, poi è un anno olimpico e penso che sarà proprio l'appuntamento più sentito, visto che ci sono proprio inizio di stagione, sono verificati diversi infortuni e quindi la Coppa del Mondo sarà un pochino sbiadita dalla mancanza di alcuni grandi big. E credo che questo giochi tutto a favore delle Olimpiadi coreane, insomma. Quindi, tanti nomi che non saranno presenti nella Coppa del Mondo, forse meglio per l'Italia? Ma sì, allora, da un punto di vista sportivo no, perché il grande spettacolo, lo sci, lo offre non soltanto perché ci sono gli italiani, ma perché ci sono i grandi campioni. Se non ci sono loro, sì, possiamo gioire di una vittoria italiana, però io credo che anche gli stessi nostri azzurri siano molto più contenti di giocarsela con i top al mondo e non soltanto quando il palcoscenico è un po' vuoto, ecco. Ecco, dal punto di vista editoriale, come vedi il mondo della neve? Tanto web, tanta televisione, o almeno la Rai e anche noi ci siamo. Dal punto di vista editoriale, dal tuo rivista, com'è il mondo della neve? Guarda, da sempre che ci siano le crisi o non le crisi, che ci sia tanta neve o non ci sia tanta neve, il pubblico di sciare è bene o male sempre quello. Perché? Perché noi offriamo la passione, cioè è lo strumento ideale da dare a chi ha passione. E chi vive la montagna e lo sci con grande passione, interesse e amore, ci prende e ci legge, indipendentemente che ci siano 100.000 siti web, social di ogni tipo, o rubriche televisive che ben vengano, ecco. Però noi siamo sempre lì e siamo sempre eletti. È il miglior cibo in Italia, la migliore esposizione al sole italiana rispetto a Austria, Svizzera, siamo anche meno costosi rispetto agli amici dei svizzeri, le piste sono migliori rispetto alla Francia, si mangia meglio, siamo al top dell'offerta invernale. Ma infatti quando mi dicono, ma l'anno scorso però non c'era neve, chissà che crisi, e invece le stazioni invernali, non tutte, però la maggior parte hanno registrato un più in un anno veramente di poca neve. E questa è la lice lunga, vuol dire che sappiamo fare turismo, sappiamo proporre un'offerta che va incontro alle esigenze, non soltanto dello straniero, perché si dice anche che in ultimi anni la montagna italiana sta in piedi grazie agli stranieri. No, sono aumentate tantissimo anche le presenze degli italiani. Quindi veramente bisogna fare i punti d'oro a queste stazioni che danno l'anima proprio per offrire un'offerta, come dicevo prima, turistica importante. Continuiamo a scoprire le bellezze del Trentino. Siamo arrivati nella bellissima Val di Fiemme, siamo con Marisa Giacomozzi dell'azienda per il turismo della Val di Fiemme, questa Valle Viva, Valle Verde. Pensate che ci sono 60 milioni di alberi in questo territorio per 30.000 abitanti, una proporzione che ci fosse nella pianura padana avremo un'aria veramente salve. Tu gestisci un po' i grandi eventi, voi siete famosi per lo sport e non solo, ma cosa avete in calendario per l'inverno 2018? Ma diciamo, noi siamo famosi per lo sport e per la musica, infatti abbiamo un sacco di eventi che hanno a che vedere con la musica e il divertimento di varissimo genere, peraltro. Quindi partiamo con l'opening che è ovviamente a inizio per i milanesi, è a Sant'Ambrogio, quindi è a inizio dicembre per cui avremo della musica sulle piste e tante occasioni di fare feste, divertirsi. E poi abbiamo lo ski jazz che ha compiuto l'anno scorso 20 anni, quindi siamo alla 21esima edizione, quindi jazz sulla neve, quello chiaramente è a marzo, e poi concluderemo con il DJ Ski Fest, quindi ci saranno i DJ più famosi da tutte le nazioni, dalla Polonia, Repubblica Ceca e anche ovviamente dall'Italia, sulle piste e nei paesi per concludere in bellezza la stagione. E poi abbiamo tutti gli eventi sportivi ovviamente. Ecco, iniziamo con il Tour de Ski, con la Marcia Longa, ma non solo con la Combinata Nordica, con il nuovo... È peschizzo, ma ne avete tanti, c'è veramente solo da venire in Val di Fia. Esatto, abbiamo eventi sportivi anche lì di varia natura, abbiamo il Tour de Ski, quindi lo sci da discesa e lo sci da fondo che si incontrano, perché gli atleti con gli sci da fondo vanno in salita su una pista da discesa, che è una fatica terrificante, dopo, e questo sarà a inizio gennaio, poi abbiamo la Combinata Nordica che è a metà gennaio, quindi il weekend successivo, per cui salto con gli sci e fondo, poi abbiamo lo Skiri Trophy che è sci di fondo per i bambini, la Marcia Longa, l'Epic Ski Tour che poi a marzo, perché a febbraio è alta stagione, ci fermiamo un pochino anche noi. Ma qua, scusami, ma quanto deve stare un turista in vacanza da voi? Non basta una settimana? Ah no, deve venire due o tre volte per vedere tutte le cose che ci sono da fare. Complimenti, infatti siete una delle località più dinamiche e più attive delle Dolomiti. Esatto, noi vi aspettiamo tutti per provare l'evento, lo sport, ovviamente sciare, ma anche rilassarvi, stare in compagnia, divertirvi e passare un'ottima vacanza. Skirama Dolomiti ad Amello Brenta, sci, neve, sole, tutto questo è Skirama. Impianti e piste aperte fino ad aprile, infoline www.skirama.it. Ti aspettiamo! Samice, fatti di sport Quando il gioco si fa duro E per le sfide di ogni giorno C'è Cetilar Doppia forza al tuo massaggio Il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare Bertrand, Performing Team Wear C'è 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 C' Cari amici degli aspettatori il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato è finita questa puntata di Sportador TV, la multipiattaforma TV tutta dedicata al turismo e allo sport potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisione sul sito sportador.tv in questa puntata abbiamo presentato la prossima stagione invernale abbiamo curiosato fra le più importanti stazioni sistiche della nostra Italia per capire come ci sta preparando per la prossima stagione invernale ci vediamo settimana prossima, continuiamo a parlare appunto della prossima stagione invernale stessa ora, stessa frequenza, sempre con Sportador TV ciao e arrivederci la prossima settimana da Floriano Maboni in collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta Val di Sole Alpe Cimbra Folgaria Lavarone Vicina da non crederci Paganella Schi Ponte di Legno Tonale Val Sugana Funivie Folgarida e Marilleva